Intanto chiamo la professoressa Ripa, grazie tantissimo, un numero 300 anni, questo per darci l'idea di quanto è impossibile continuare a pensare nell'oggi e la nostra prospettiva è pochi mesi, qua stiamo parlando di 300 anni per dare la ricarica completa del lago, questi sono i temi quando parliamo di ambiente come dobbiamo vedere. Allora nel ringraziare Nicoletta Ripa che è splendida professoressa all'università della Tuscia che è anche nel comitato scientifico del biodistetto voglio anche fare un ringraziamento che poi sarà steso anche chiaramente a Marco al mondo dell'accademia e della ricerca pubblica che è veramente legata alla propria comunità e questo è un tema centrale, noi abbiamo bisogno di studi seri di ricerca, ricerca applicata, abbiamo bisogno di questa comunità al nostro fianco, è fondamentale, la ricerca pubblica è un elemento che non possiamo non avere con noi quando parliamo e soprattutto quando lottiamo per i nostri diritti. E quindi questo io credo che sia un elemento su cui dobbiamo lavorare ancora di più perché senza di loro è molto difficile, i saperi che ci sono e che vanno riconosciuti tutti a partire dai splendidi saperi contadini che anche questa comunità ha, ecco poco l'esempio del nostro comitato scientifico è questo, metti insieme tanti saperi ma io qui veramente ringrazio te Nicoletta e tutti i professori dell'università che sono con noi e chiaramente hai anche tu 15 minuti. Buongiorno a tutti, 15 minuti che divideremo equamente con questo giovane dottore e diciamo ex studente da poco perché, allora tante cose sono state dette, tante come dire ci fanno un po' tremare, Alice Rohrwacher ha detto abbiamo paura degli alberi, dobbiamo aver paura degli alberi oppure dobbiamo aver paura dell'acqua ha detto Antonella Litta e sembrerebbe proprio così, invece diciamo cerchiamo di non aver paura né degli alberi né dell'acqua ma questo dipende da noi, dipende da quello che siamo in grado di fare. Quando si prepara una presentazione, un intervento ad un convegno, si parte con delle idee, poi come in questo caso arrivando per ultimi in realtà forse vorrei dire tutte altre cose, però insomma cerchiamo di seguire un poco il filo. Io sono docente di assetto del territorio all'università della Tuscia e da un paio di anni con gli studenti che seguono il mio insegnamento ci siamo dedicati a analizzare questo fenomeno che sta avvenendo nel nostro territorio, per quantificarne l'intensità che diciamo tutti percepite, ci vediamo circondati, ogni giorno vediamo apparire nuove superfici, ma volevamo quantificarla effettivamente. E poi però i nostri studenti sono i giovani, sono un po' più grandi di Greta, ma sono giovani, hanno ideali e possibilmente avranno anche capacità per cercare di fronteggiare queste emergenze e per cercare di vivere questi processi in maniera diversa, da attori e non in maniera passiva. Io li ringrazio tutti per il lavoro che hanno fatto. Devo dire che vi illustrerò ora una cosa che forse alcuni hanno già visto, e cioè l'andamento di questa situazione dell'espansione della coltivazione del nocciolo nel biodistretto della Via Merina, che è un territorio di elezione che abbiamo scelto. Ma è in progress e conto di avere con Andrea un'altra occasione per far illustrare ai ragazzi i risultati di quest'anno che riguardano l'intero territorio provinciale, ma ci possiamo spingere anche all'Umbria, alla Toscana, insomma i ragazzi lavorano sempre con grande volontà. Io andrò molto veloce su questi aspetti tecnici, cercando di farvi concentrare solo su quello che è importante, perché il tempo scorre. Questa era la situazione del biodistretto della Via Merina, questa forma è familiare per alcuni di voi. In verde vediamo la consistenza dei noccioli al 2003-2004. Questi che vedete in blu sono i nuovi noccioleti, cioè quelli che si sono aggiunti dal 2004 ad oggi, allo scorso anno. Sono un bel po' di superfici. I ragazzi hanno classificato le espansioni che abbiamo avuto nelle diverse aree, nei diversi comuni, individuando dei comuni in cui l'espansione era stata minima. Questi quattro, per esempio Canepino, Allerano, Castel Santeria, Calcata, hanno visto crescite dai 9 ai 30 ettari, fino allo scorso anno però, perché questi dati sono dello scorso anno. Non so che è successo in un anno, potrebbe essere successo anche qualche cosa di importante. Dove abbiamo perso prevalentemente seminativi, vado veloce su questo. Qui c'è un altro gruppo di comuni in cui invece l'aumento, come vedete, va dagli 80 ai 150 ettari, siamo sotto i 200 ettari di incremento, mentre, e sono i comuni, vedete, Faleria, Vignanello, Orte, Corchiano, mentre questi sono i campioni, e i campioni sono i comuni di Gallese, Vasanello, Fabrica di Roma, Civita, Castellana, con incremento di superfici che vanno da 200 ai 400 ettari, e il vincitore è il comune di Nepi, che invece ha visto ampliare le proprie superfici di circa 700 ettari, diciamo così. Questa è la fotografia, con alcune valutazioni che abbiamo fatto su come si è svolto questo fenomeno. In verde scuro vedete i comuni in cui il nocciolo era già cultura prevalente e continua a rimanere ad oggi percentualmente, diciamo, sul territorio dei singoli comuni, cultura prevalente. In questa immagine invece, vediamo qual è stato l'incremento delle superfici, cioè quali sono stati i comuni in cui abbiamo un incremento in percentuale rispetto a quella che era la consistenza del periodo precedente nei diversi territori. Ora, diciamo, questa è un'analisi interessante, questa invece è appunto l'immagine dove abbiamo l'incremento in valori assoluti, diciamo così, non relativi, della nocciolicoltura, con il colore più scuro corrisponde al comune dove questa si espansa di più. Per il resto della provincia vi do un'anticipazione, un coming soon, rispetto a quello che, diciamo che è meno grave di quello che temevamo, cioè dalla ricognizione sembra che non sia così drammatica come si può immaginare percorrendo, sebbene sia rilevante e presente, ma percorrendo le strade anche semplicemente facendo una passeggiata con la macchina. Sono andata molto veloce perché invece rispetto a quello che è stato detto nel resto della mattinata vorrei provare ad analizzare questo fenomeno da un altro punto di vista. Il territorio è sempre stato trasformato e l'agricoltura è il motore principale di queste trasformazioni. Poi abbiamo sicuramente le attività industriali, le attività insediative, ma l'agricoltura trasforma ai nostri territori. Pensate alle zone dei Vigneti, le zone del Prosecco, le zone del Chianti. Abbiamo detto che questo tipo di intensificazione impoverisce. Dobbiamo capire bene che cosa vogliamo valutare perché impoverisce ma arricchisce. Abbiamo parlato di semplificazione paesaggistica che è un danno. Dal mio punto di vista è così. Ambientalmente la semplificazione, la monocoltura è un danno. Però la Val d'Orcia è patrimonio dell'UNESCO. Significa che è uno di quei paesaggi che è tutelato a livello mondiale e noi sappiamo bene che invece dal punto di vista della biodiversità e della pressione antropica è estremamente elevato. Però è un paesaggio distintivo. Quindi il discorso è complicato? Molto, molto, molto complicato perché i valori in gioco sono tantissimi. Che vuol dire? Che blocchiamo le trasformazioni? Sì, ci possiamo riuscire. No, non ci possiamo riuscire. Agli studenti parlo sempre di un concetto che è fondamentale, che è quello della carrying capacity. E cioè che ogni sistema, non esiste se esistesse un valore deterministico applicabile ad un comparto, ad una filiera. Tutto sarebbe semplice perché noi sapremmo come fare. Il problema invece è che noi parliamo di sistemi che sono complessi, che sono continuamente in divenire, dove le interazioni sono complesse e solo in parte conosciute, a volte completamente sconosciute. e questo ci rende tutto difficile perché la strada bisogna costruirla a poco a poco. Agli studenti dico, un elefante è pesante? Sì? No? Dipende da dove lo faccio stare. Se lo faccio stare sul ponte di Brooklyn, e gli faccio sempre questo esempio, non è pesante. Il ponte di Brooklyn non se ne accorge neanche, ma se voglio mettere l'elefante su una tavoletta di compensato è pesantissimo. Quella tavoletta di compensato non è in grado di tenerla, di tenerlo l'elefante. Questo significa che noi dobbiamo conoscere i nostri sistemi. Conoscere significa studiare, la dottoressa Litta ha detto ci sono studi della Tuscia, di Roma 3, dell'Istituto Superiore di Sanità, tutti studiamo, ok, tutti studiamo. Alla Tuscia abbiamo anche corsi di laurea in scienza agraria e possibilmente dovremmo proporre anche delle soluzioni. Quello che dobbiamo fare è definire qual è il carico antropico sostenibile per un certo sistema. Queste bruttissime figure però vi dicono che noi dobbiamo conoscere il sistema e valutare quali sono gli impatti delle attività antropiche. Nel caso delle nocciole io penso alla biodiversità, penso all'acqua, qualità dell'acqua, quantità dell'acqua. Piero Bruni ci ha parlato di quantità dell'acqua. Io vi parlo pure di erosione che è un altro processo che forse sottovalutiamo. Questa slide riguarda l'acqua ma ve ne parlo dopo. Il lago di Vico, non dico più niente perché è già stato detto tutto sulla sua situazione. Vi faccio vedere questo però perché vi ho detto noi dobbiamo conoscere i sistemi. Questa semplice formuletta applicata ai tre diversi laghi vulcanici del Lazio ci dice quanto sono diversi. Quanto sono diversi per le loro caratteristiche morfometriche, per il loro tempo di ricambio, per la loro profondità, per le loro caratteristiche. Vuol dire che hanno una risposta diversa all'aggressione che l'uomo può fare e questo ci lascia per esempio il lago di Vico, è quello più sensibile, il lago di Bolsena è quello più tollerante. Ma sappiamo che siamo arrivati al limite di questa tolleranza. Questo video ve lo risparmio perché forse non, o forse le faccio provare a scorrere. Queste sono nocciole che finiscono nel lago di Vico a causa di un evento meteorico estremo. A che pensiamo noi? A un alluvione? No, a una pioggia intensa. Ma perché avviene questo? Queste foto rappresentano una situazione di erosione accelerata che avveniva nel 2002, è stata fotografata da noi nel 2002. Ma l'avevamo fotografata anche nel 90, non è che fosse cambiato negli anni 2000. Perché c'entra l'erosione? Perché il fosforo, di cui vi è stato detto, il fosforo arriva al lago di Vico attraverso l'erosione. E arriverebbe anche al lago di Bolsena attraverso l'erosione. Queste sono foto che ho preso io nel 2019. Non è cambiato niente. Dal 2002 al 2019 non è cambiato niente. E non è che non sia cambiato niente perché noi non sappiamo cosa fare. Non è cambiato niente perché è difficile far capire ai principali attori, che sono gli agricoltori, ma agli altri principali attori, che sono la riserva e tutti coloro che hanno, chi scrive i PSR, tutti coloro che hanno una possibilità di affrontare seriamente la questione, di fare qualcosa. Perché gli strumenti ci sono. Questo schemino, avrete sentito parlare di fasce, se noi portiamo i noccioleti fino al limite del lago, poi è chiaro che troviamo la microcistina all'interno delle nocciole. Però noi abbiamo anche degli strumenti di tutela del corpo idrico che ci dicono che quella, essendo una risorsa idropotabile, le coltivazioni intense non devono stare fino al margine del lago. E allora dobbiamo solo essere capaci di intervenire. Hanno parlato tutte delle norme, di norme ne abbiamo tante, dal testo unico sull'ambiente, alle norme sui piani SIC, le ZPS, ce ne sono un'infinità. Quello che ci manca non sono le leggi, ma è la capacità di rispettarle. E io vi dico che ci vuole informazione, e questa è un'iniziativa per esempio, che aumenta la nostra informazione, però ci vuole partecipazione. Vi dicevo, se i primi non sono gli agricoltori a muoversi in questa direzione, o, e questo richiamo a tutti voi, i nostri studenti che saranno i futuri tecnici, che andranno ad operare in questi territori, allora non se ne viene a capo. E naturalmente, dal nostro punto di vista dell'università, noi dobbiamo portare innovazione. Vi ho detto, su questa slide ci torno dopo, perché una delle preoccupazioni, oltre alla perdita di biodiversità e oltre... 3 su tutti? Su 15? Mi fa paura, sto andando più veloce che posso. Una delle preoccupazioni è la risorsa idrica, il depauperamento della risorsa idrica. Se posso tornare indietro a questa slide, abbiamo fatto sempre con gli studenti una simulazione piuttosto semplice di quella che è la situazione, per esempio, dell'acquifero idrogeologico vicano, che praticamente sottende a tutto il comprensorio della via Merina. E abbiamo stimato i fabbisogni del nocciolo, abbiamo stimato le precipitazioni medie, e quindi il deficit idrico in quel periodo, e conseguentemente quale potrebbe essere l'ammontare dei nuovi prelievi, che ci portano la ricarica dell'acquifero. La ricarica è la capacità dell'acquifero di rinnovarsi, di essere nuovamente alimentato, molto vicino al... o meglio, lo sfruttamento dell'acquifero, molto vicino al 50% della sua ricarica. Il 50% della ricarica è un limite che ci siamo posti come non superabile, se vogliamo salvaguardare, quell'acquifero. Quindi una grande attenzione è richiesta in questo senso. E allora torno agli studi. Alessio Patriarca, il dottore Alessio Patriarca, ha svolto una tesi in cui ci preoccupiamo proprio di questo, cioè siamo in grado di guidare l'irrigazione del nocciolo in modo da limitare il più possibile questi prelievi, e abbiamo tentato di fare un'applicazione che sfrutti le tecnologie moderne che abbiamo a disposizione. Però su questo intervento molto tecnico, devo dire, usciamo dal campo del confronto dialettico, se volete, per entrare in un discorso forse troppo tecnico, ma che ci dice però quanto noi possiamo fare con la tecnologia per risolvere questi processi. Però non so come passare alla presentazione successiva. Scusate, proverò ad essere il più sintetico possibile. Allora, buongiorno, sono qui oggi per presentarvi un estratto della mia tesi di laurea triennale che ho discusso il 21 settembre scorso. Questa tesi riguarda le potenzialità delle immagini telerilevate da Sentinel-2 per il monitoraggio del nocciolo. In particolare ci siamo riferiti al caso del biodistretto della Via Merina e delle Forre, che è un territorio che già bene conoscete. Per parlare di immagini telerilevate devo parlare di che cos'è il telerilevamento. Il telerilevamento, o remote sensing, è una scienza multidisciplinare che permette di ottenere delle informazioni su dei territori o degli oggetti attraverso un monitoraggio remoto, che sia esso effettuato da drone, da piattaforma satellitare o piattaforma aerea, e sfrutta il principio di interazione dell'onda. L'interazione dell'onda elettromagnetica è importante perché l'onda elettromagnetica viene riflessa dalle superfici e questa porzione di onda viene quindi captata da appositi sensori e viene utilizzata per avere delle informazioni. In campo agroforestale le principali utilizzazioni sono sicuramente la mappatura delle coperture del suolo tramite firma spettrale. La firma spettrale non è nient'altro che una curva di riflettanza è stata ottenuta registrando quindi i valori di radiazione riflessa lungo tutta la lunghezza d'onda e chiamata firma perché è caratteristica di un materiale o di una superficie e talvolta anche di una specie vegetale. In secondo luogo abbiamo la produzione di indici di vegetazione. Gli indici di vegetazione sono ottenuti attraverso una interazione algebrica tra le bande rilevate e permettono quindi, correttamente interpretati, di ottenere delle informazioni importanti sulla cultura o sul fenomeno che si sta monitorando. In questo elaborato ho utilizzato delle piattaforme satellitari. I vantaggi sono sicuramente la visione sinottica, cioè la capacità di riprendere ampie porzioni di territorio con un singolo fotogramma, utilizzo di sensori che possono andare ad individuare quindi diverse proprietà in funzione alla porzione dell'ospetto indagata ed infine le riprese multitemporali. Le riprese multitemporali ad intervalli prefissati, quindi fissi, permettono un monitoraggio e dei confronti diacronici della cultura. I limiti sono principalmente legati agli elevati costi di fruizione e di elaborazione e in secondo luogo alla copertura nuvolosa che impedisce il funzionamento corretto di alcuni sensori come per esempio gli iperspettrali e i multispettrali. Un programma che permette di superare parte di questi limiti è sicuramente il programma Copernicus dell'Agenzia Spaziale Europea che vede quindi sette diverse missioni chiamate missioni Sentinel di cui parleremo in particolare della missione Sentinel-2. La missione Sentinel-2 costa di due satelliti, uguali tra di loro con un'orbita opposta. Questo permette quindi di ottenere una risoluzione temporale di 5 giorni e quindi un monitoraggio settimanale della cultura, una risoluzione spettrale di 13 bande nello spettro del visibile, dell'infrarosso vicino perdonatemi scusate e quindi una risoluzione spaziale ottima per il monitoraggio in campo agroforestale e soprattutto sono immagini gratuite quindi proprio per questo le immagini Sentinel sono ottime per il monitoraggio. Gli obiettivi dell'elaborato sono quindi definire un protocollo di processamento delle immagini utili ad indagare quindi i fenomeni nelle aree agroforestali, individuare le superfici coltivate a nocciolo cercando di discriminare quattro diverse classi in funzione alla copertura del suolo ed infine testare la validità delle immagini per monitorare lo stato idrico della cultura cercando anche di individuare le aree irrigue dalle aree non irrigue. L'area di studio come già bene avete tutti quanti visto è il biodistretto della via Merina e delle forre che sorvolerò ampiamente anche sui materiali e i metodi andiamo al punto, ok passerò tutta questa parte qua perdonatemi ok quindi per quanto riguarda il monitoraggio dello stato idrico della cultura abbiamo utilizzato un indice NDWI questo indice permette di stimare la quantità di acqua liquida presente all'interno delle foglie quindi utilizzando quest'indice e integrando il tutto con i dati pluviometrici ottenuti dalla stazione agrometeorologica di Corchiano, l'unica presente nel biodistretto della via Merina ho prodotto delle mappe di NDWI dell'estate del 2017 che come sappiamo è stata molto siccidosa queste tre mappe permettono quindi di osservare come in data 30 maggio in blu abbiamo condizioni idonee e ottimali di irrigazione, in data 30 luglio si presentano in giallo delle situazioni di stress non molto marcate ma diffuse nell'area e infine in data 28 settembre troveremo delle situazioni quindi di stress importanti e totalmente diffuse nell'area a questo punto si è cercato di individuare i noccioli di irrigui utilizzando che cosa? una mappa di differenza NDWI maggio settembre e introducendo dei campi di riferimento i campi irrigui di cui qui porto un esempio è il campo sui toni dell'azzurro mentre il campo non irriguo sui toni del rosso e dell'arancione effettuando delle analisi statistiche abbiamo potuto ottenere dei dati utili per tematizzare la mappa ottenendo quindi una mappa di stima dei noccioleti irrigui e non irrigui verificando la consistenza e la distribuzione per comune possiamo vedere come circa 5.000 ettari di noccioleti sono stati classificati come irrigui e 2.500 non irrigui verificando la distribuzione nei comuni possiamo osservare come in tre principali comuni si trovano un elevato quantitativo di noccioleti irrigui in particolare Corchiano, Fabbrica di Roma e Vignanello questi tre comuni sono dei comuni in cui quindi i noccioleti che non sono stati individuati con il metodo e che stanno sorgendo negli ultimi periodi fossero irrigui potrebbero quindi manifestare delle importanti situazioni di criticità dal punto di vista dell'approvvigionamento idrico in un'estate siccitosa quindi è doveroso parlare degli sviluppi futuri che possono sorgere da un elaborato simile innanzitutto l'utilizzare le nuove immagini satellitari che verranno messe in orbita nei prossimi anni per classificare i noccioleti che non sono stati individuati con questa tecnica in secondo luogo abbiamo una creazione di un applicativo WebGIS ossia una piattaforma che permette quindi attraverso l'integrazione di mappe dei suoli e mappe di prescrizione della concimazione azotata e dell'irrigazione di fornire un servizio di monitoraggio settimanale della cultura sia a livello aziendale che a livello comprensoriale permettendo quindi magari una definizione di un disciplinare di produzione e soprattutto cercando di migliorare la sostenibilità della cultura su un territorio che come abbiamo visto presenta numerosi criticità grazie